Quando io penso a come si deve governare una città, la sfida di prendere in mano questa cosa complicata che è governare una città come Como, che viene da tanti anni di governo inefficace, penso che naturalmente ciascuno di noi fa come prima cosa riferimento a quella che è la città che vede, alla città fisica e in questo sappiamo che in Mario possiamo riconoscere una capacità, una competenza e anche una conoscenza che gli deriva dagli anni di impegno amministrativo. Questa volta abbiamo la possibilità di farcela, abbiamo la possibilità di ricacciare il centro-destra che ha così male governato la nostra città rovinandola fuori dall'amministrazione e di riuscire a rendere effettivo quel cambiamento di cui tutti i cittadini, anche i cittadini di centro-destra sentono assolutamente il bisogno. Quello che Mario Lucini è in grado di proporre alla città è soprattutto questo, un'immagine in cui la cittadinanza di Como ritrova un sindaco che lo rappresenta, un sindaco che lo ascolta, un sindaco che sa essere interprete dei loro bisogni. Siamo nel territorio del centro-destra e della Lega, siamo nel territorio di un mondo identitario che pensa di riconoscersi in una lingua, in un territorio e credere che i diritti appartengono solo a coloro che di quel territorio sono nativi. Io credo che quello che abbiamo sperimentato nei gruppi che hanno lavorato al programma, ma non soltanto lì, ci abbia indicato che siamo in tanti, più di quello che possiamo immaginare e dobbiamo semplicemente ricomunicare questa fiducia sulla possibilità anche di futuro alle persone che ci stanno vicino. Io non credo che le giunte che sono state in piedi fino adesso, almeno le ultime 3, e le persone che le hanno composte fossero cattive, cioè volessero il male, volessero sbagliare. Credo che semplicemente quello che abbiamo adesso è quello che sono riusciti a fare. Allora credo che sia anche venuto il momento di dire basta, questa città può cambiare pagina, possiamo fare altro, certamente possiamo fare meglio e credo che sotto questo profilo Mario sia un buon candidato. Molto emozionato anche perché davvero la forza che viene da questa sala è potentissima, io non sono parole di circostanza, davvero non pensavo di trovarci insieme così in tanti con questo entusiasmo e con questa voglia, per cui già questo è una carica notevolissima e vi ringrazio davvero tanto di questo. Noi abbiamo detto, siamo partiti costruendo una squadra, siamo una squadra, quindi dobbiamo lavorare come una squadra. dobbiamo essere convinti davvero di avere qualcosa di importante da dare alla città e lo siamo. Alle persone dobbiamo chiedere sostegno e a loro dobbiamo garantire il nostro impegno con tutte le forze che abbiamo per fare rinascere la nostra città. Grazie per il nuovo sindaco per tomo, Mario Riccini.